Che bella Sicilia, che bella Sicilia! Ci troviamo in questo momento alla macelleria di Filippo Siragusa, i sapori della carne E allora questo è uno staff che vi saluta forbitamente con un applauso E allora Filippo, facciamo un saluto di benvenuto agli amici che quest'oggi riempiono caccamo veramente di allegria Vi ringrazio tutti per la vostra visita e speriamo che ci possiamo divertire Grazie a Filippo, grazie alla moglie, grazie allo staff Salsiccia buonissima, Filippo Siragusa, i sapori della carne, vi aspettiamo quest'oggi Restate con noi